Ricorre oggi l'anniversario della liberazione d'Italia dall'oppressione nazista e fascista. La cerimonia all'altare della patria, della presidenza, della Repubblica. Onori al Presidente della Repubblica. Bandiera di guerra del primo reggimento Granatieri di Sardegna, reparto di formazione con banda dell'esercito pronti per la rassegna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Reparto d'onore presentato... Onori al Presidente della Repubblica. Anticipa, anticipa... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.